Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Funko Pop offerto da Popinabox. Molti di voi erano convinti che io non avrei più portato più video a tema Funko sul canale, ma vi sbagliavate. Ve l'avevo detto, nonostante quelli di Harry Potter non facciano più parte della mia collezione, ne ho tanti altri e tanti altri ne arriveranno. Questo ragazzi è il mio pacco in abbonamento da 3 Pop di Popinabox. Chi mi segue lo saprà già, ho attivato diversi mesi fa l'abbonamento da 3 Pop al mese di Popinabox e vi ho anche spiegato come funziona. Vi lascio nelle schede qui in alto il link al primo video dove vi spiego passo passo come funziona l'abbonamento e quel video lo trovate anche sul sito di Popinabox. Brevemente, ogni mese potete scegliere se ricevere da 1 fino a 6-12 Pop a sorpresa. Pagate questo abbonamento e vi vengono spediti dei Pop a sorpresa, random, ma random tra quelli da voi desiderati. Perché basta andare sul sito, registrarsi, attivare l'abbonamento e segnare con un pollice in su, un pollice in giù o una coppa i Pop che già possedete che vi piacciono o che non vi piacciono. Quindi molto semplice. Una volta segnati tutti i Pop col pollice in su, il sistema ogni mese pescherà random tra quelli disponibili e ve li manderanno a casa. Questo è il pacco di questo mese. E ragazzi, sono super curioso perché, visto che è un pacco decisamente enorme, dovrebbero esserci dentro solo 3 Pop. Ovviamente, nell'abbonamento di Popinabox è possibile segnare anche i Pop Oversize, i Movie Moments, i Pop B-Pack, 3-Pack, qualsiasi tipo di Pop. Da quelli regular a quelli giganti. Poi sta alla fortuna. Ragazzi, io penso di essere stato fortunato questo mese perché il pacco promette molto molto bene ed è pesante. Quindi andiamo ad aprirlo, tagliamo il nostro scotch. Ok, uno spero di non rovinare Pop. Ok, wow, ragazzi, ho già sbricciato, ne ho visto uno gigante che non pensavo assolutamente di poter mai ricevere. E invece, eccolo qui. Ragazzi, è enorme. Intanto all'interno abbiamo tantissima protezione, quindi i Pop arrivano anche ben protetti. Questa ottima cosa. E abbiamo, cominciamo da qui, ben 3 Pop. Abbiamo un Movie Moment, ragazzi. Questo è un Movie Moment. Anzi, no, questo è un Town. Mi stavo sbagliando. Abbiamo un Town dei Ghostbusters. E adesso, prima di tirare fuori gli altri Pop, lo andiamo a guardare un po' meglio. Io direi di spostare questa scatola sul pavimento e di tirarli fuori uno alla volta. Patente di guida alla mano. E andiamo ad aprire questa scatola, cercando di non rovinarla. Io questo Pop lo avevo inserito di impulso perché, nonostante io non ho neanche collezioni i Pop dei Ghostbusters, ma quando ho visto la centrale in miniatura, mi è piaciuta subito tantissimo. E quindi l'ho messa nella lista dei desideri. E sono davvero super felice di averli ricevuti. Ecco qui, ragazzi. Abbiamo il nostro Dottor Venkman. Scusate, non ricordavo il nome, ho dovuto leggerlo. E, naturalmente, abbiamo la cosa che più mi interessava. Non tanto il Pop, ma mi interessava proprio la caserma dei Ghostbusters. La trovo davvero molto, molto bella. Guardate quanto è carina. Ha anche qui la bandiera con il logo dei Ghostbusters, che è davvero bellissimo. La caserma è molto, molto bella. Io la caserma l'ho vista dal vivo, quest'edificio, l'ho vista dal vivo quando andai a New York. Quindi mi piace davvero tantissimo e credo che la metterò esposta così semplicemente sulla mensola, perché mi piace, mi piace davvero tanto. E spero di recuperare presto anche il Pop di Slimer, che è uno di quei Pop che mi ha sempre attirato, ma che non ho mai avuto modo di acquistare, non c'è stata mai occasione, e l'ho aggiunto proprio nella lista di Pop in a Box, sperando che prima o poi arrivi anche quello. Però devo dire che questo town è davvero molto, molto bello e ve lo straconsiglio. Fatta davvero benissimo la caserma dei Ghostbusters. Ma adesso andiamo a guardare cos'altro contiene il nostro pacco a sorpresa di Pop in a Box. Peschiamo dallo scatolone e tiriamo fuori, ragazzi, un altro Pop Oversize. E ragazzi, questo è un Pop con suoni. Probabilmente le batterie non sono incluse, ma chi è fan di Rick e Morty avrà assolutamente riconosciuto questa scena. Si tratta di King of Shit. Ragazzi, è stata una puntata divertentissima. E c'è il nostro Rick che ha un bagno privato su un intero pianeta. Ha un bagno con una vista eccezionale e quello è il suo regno. Lui ha il suo trono dove va letteralmente al bagno. Ogni volta va in questo mondo e va lì a fare i suoi bisogni. Poi questo posto verrà usurpato da un altro personaggio, ma per maggiori informazioni trovate la puntata su Netflix. E ragazzi, Rick e Morty a me piace tantissimo. E sono davvero super contento di aver ricevuto questo Pop. Ragazzi, è sempre difficoltoso aprire questi Pop più grandi perché hanno la scatola di un materiale molto più spesso rispetto a quelle piccole, a quelle regular. Ed è molto molto facile andare a rovinare la scatola e a piegarla senza volerlo. Quindi bisogna fare molta molta attenzione. Ma eccolo qui, da sottolineare che le box comunque sono tutte mint e sono super contento anche di questo. Abbiamo le nostre istruzioni e ragazzi, guardate quanto è bello. Purtroppo non fa i suoi suoni perché la batteria non è inclusa, ma vi lascio immaginare quali possano essere i suoni. Da questa parte abbiamo un piccolo altoparlante e questo tasto da scherciare per attivare i suoni. E abbiamo Rick col rotolo di carta igienica e la sua corona in testa. Ditemi se non è il Pop più figo che abbiate mai visto. Io sono assolutamente felice di averlo ricevuto, anche questo andrà assolutamente in una delle mensole. Sono dei Pop che mi piacciono tantissimo. Quindi super super apprezzato anche questo Pop di Rick e Morti. E ragazzi, il terzo Pop nella scatola è qualcosa di spettacolare, che magari non piacerà a tutti, ma è fighissimo. Ebbene ragazzi, per tirare fuori questo Pop mi servono entrambe le braccia perché è davvero, davvero enorme. Si tratta del Pop di Michael Jordan, Pop dell'NBA con Bollino. Un Pop che io avevo aggiunto, avevo segnato col pollice in su, vi giuro, senza alcuna speranza di riceverlo. E invece, eccolo qui. Ragazzi, solamente questo Pop si ripaga largamente l'intera box. Quindi io vi consiglio assolutamente l'abbonamento a Pop in a Box perché si risparmiano tantissimi soldi e arrivano dei Pop bellissimi. Io sono davvero super contento. L'unica cosa, come vi dicevo, è quella di essere costanti nel segnare i nuovi Pop col pollice in su, pollice in giù e con la coppa, quelli che già possedete, e di non lasciare nessun Pop col pollice grigio, quindi senza segnarlo, perché in quel caso potrebbe arrivarvi. Ragazzi, io sono davvero senza parole. È enorme, credo sia un life size, questo qua dovrebbe essere addirittura un 10 pollici, ed è qualcosa di spettacolare. Io ora cercherò di tirarlo fuori per farvelo vedere meglio, ma ragazzi, credo questo sia il mese migliore che mi sia mai capitato con Pop in a Box. Togliamo la plastica protettiva ed eccolo qui, ragazzi. Wow, pesa un sacco, ed è il Pop dei Bulls, ed è il Pop di Michael Jordan. È bellissimo, ragazzi, davvero. La tuta, la sua divisa è fatta davvero benissimo. La palla sembra quasi vera, davvero fatta molto molto bene. Il Pop di per sé è molto semplice, però è bello. Secondo me è davvero molto molto bello. Io sono un fan di Michael Jordan, io, ad esempio, lo ricordo in Space Jam, uno di quei film che hanno segnato la mia infanzia, e, ragazzi, dovevo assolutamente mettere un pollice in su per Michael Jordan, non potevo astenermi. Questo Pop è un piccolo bambino e, adesso che lo tengo in mano, mi ricorda tantissimo Stevie Griffin da dietro. E io spero, caldamente, che un giorno possa arrivare un Pop da 10 pollici di Stevie Griffin. Sarebbe, ragazzi, davvero pazzesco. Bene, ragazzi, io non credo di dover aggiungere molto altro. L'abbonamento, come al solito, come ogni mese, vale assolutamente la spesa. Io ve lo straconsiglio. Trovate il link sopra nelle schede dove vi spiego meglio il funzionamento. Lo trovate anche sul sito di Popinabox, che vi linko sotto in infobox. E, ragazzi, naturalmente, per qualsiasi domanda mi trovate sia nei commenti che su Instagram Antonio.seria. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Vi chiedo, come al solito, di lasciare un commento, lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, quali non posti ancora iscritti. E, naturalmente, adesso chiudo il becco e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao! Ciao!